Oggi ragazzi purtroppo non posso essere incazzato, una piccola parte di me lo è e poi ci arriveremo, però comunque vista la partita che abbiamo giocato è in dubbio il fatto che ci siano più aspetti positivi che negativi questa sera. Ciao a tutti da Adri e bentornati sul canale, seguitemi su Instagram, su TikTok che tra l'altro adesso vi faccio vedere, recappo in video molto brevi, le live reaction che escono anche sul canale, ogni mattina c'è la live reaction appunto di Fiorentina Milan, però tuffiamoci in questo post partita. Allora partiamo dal fatto che la gara è stata buona su un campo famoso per essere un campo tosto, insomma l'internazionale su questo campo ha vinto 1-0 con tra l'altro un rigore sbagliato da parte della Fiorentina, se no poteva essere tranquillamente raccontata un'altra storia. Altre squadre ci hanno sofferto tantissimo, primi noi perché negli ultimi due anni non siamo stati capaci di vincere lì, mi ricordo due anni fa quel 3-0 con Tripleta Rivlaovic prima che andasse la Juventus, l'avevamo rimessa in piedi sul 3-2 poi con quel pasticcio Gabbia Tatarusano, la partita fece la fine di quella che fece a Monza. L'anno scorso una delle partite più brutte della stagione dove veramente non abbiamo fatto niente, siamo andati sotto 2-0, poi Tarnandez ha fatto un bellissimo gol, purtroppo inutile nel recupero, quest'anno dopo tre anni perché era marzo 2021 raccogliamo per la prima volta tre punti a Firenze in una partita che vinciamo sempre di cortomuso perché ormai il cortomuso è diventato, un cortomuso contro la Firenze è diventato un meme perché loro vincono di cortomuso contro noi, noi vinciamo di cortomuso contro loro ed è la prima volta che Pioli riesce a fare tre punti in casa l'italiano perché Spezia e due volte Firenze aveva sempre perso, mentre l'italiano ha sempre perso a Milano. Detto questo ragazzi, erano soldati statistici, analizzando la partita non è stata una brutta partita perché ho visto un Milan perlomeno non costante come vorrei vedere, però ho visto un Milan molto più costante rispetto all'ultima uscita e soprattutto rispetto anche a uscite diciamo un pochino più leggere come quelle contro lo Slavia Praga e il Renne. Soprattutto da notare che quando il giocatore del Milan, che è Raffa Leao perché il giocatore del Milan non è altalenante perché stasera ha fatto una partita mostruosa, ha fatto una partita mostruosa ragazzi, se non è altalenante lui il Milan gioca meglio. Ma è normale, cioè è una vita che lo dico e stasera si è palesato Leao fino a che non è uscito, ha giocato una partita straordinaria e non solo, Leao da quando è uscito il Milan ha smesso completamente di giocare, ha fatto una fase difensiva che se non fosse per Mignan saremmo qua a raccontarci un'altra storia, però per quanto riguarda la fase offensiva finché Leao è stato in campo il Milan è stato, a mio parere, non superiore, nettamente superiore. Allora, quello che denuncio, che quando all'inizio vi ho detto non posso essere incazzato stasera, però una piccola parte di me lo è, è riferito al fatto che nel primo tempo ragazzi noi dovevamo fare gol. È vero che noi non siamo famosi per fare gol nel primo tempo, questo ormai è dato rifatto e è anche palesato dal fatto che tutti i gol del Milan arrivano dal 35esimo, 40esimo in poi, soprattutto in questo 2024. Nel primo tempo ragazzi abbiamo avuto occasioni che io, con tutto il bene che vi voglio, la porta è 7 metri e mezzo, il portiere è largo 50-60 centimetri, vuol dire che tu hai 7 metri di porta libera, è vero che comunque un portiere, è il portiere della Frentina, è agile e tutto però, certe occasioni come quella di Giroud onestamente vanno buttate in porta, non c'è veramente niente da sindacare. E loro hanno un'occasione grossa con Belotti, con dormita difensiva, che noi se non facciamo tutte le dormite difensiva partita non siamo contenti, fa una gran parata megnana perché appena si accorge che Belotti va lanciato a rete lui esce coprendoli tutto lo specchio, Belotti calcia anche bene, ma gli calcia anche abbastanza addosso e quella è praticamente l'unica occasione grossissima Per la Frentina nel primo tempo. Primo tempo che poteva finire se non 2-0, 2-1 per noi. Andiamo al secondo tempo e diciamo si apre il vaso di Pandora perché a forza di schiacciare le cose dentro un contenitore poi queste cose vengono fuori, no? Il vado trabocca e trabocca con il gol di l'Otus-Chic che arriva sull'azione più, a mio parere, meno palla-gol di tutte. Perché le off-anassi di tacco che lo stavo maledicendo per la bestemmia qui Quindi scivola Milenkovic che è un regalo per l'Otus-Chic che mette per terra il portiere e tira. 1-0 Poi si palesa la cosa che si sta palesando troppo, ovvero quella che noi facciamo gol e non ci capiamo più niente Subiamo l'ennesimo pareggio dopo essere passato in vantaggio Con un gran gol di Duncan che però gli viene lasciata un'autostrada davanti a sé Ed è andata bene che ha tirato da fuori aria e comunque ha fatto gol perché poteva tranquillamente farsi 5-6 metri in più E bene o male Leao poi invece di fare il gol della merda decide di umiliare Terracciano e di fare il gol del 2-1 Che io non avrei che Drew creduto sarebbe stato quello decisivo per questa partita E in realtà poi invece mi sono sbagliato ragazzi, ogni tanto mi sbaglio anche io Però comunque a sbagliarmi, a non sbagliarmi ci sono andato molto vicino perché la Frenentina ha avuto diverse occasioni Da cinquantasettesimo in poi basti pensare alle due parate insensate di Mignan Tra cui quella sulla scivolata di Belotti e diverse domite difensive che potevano costare veramente care Uscito Leao ha spento il Milan, questo è un problema perché è un problema Oltre che comunque si sentiva l'assenza di Ternandez perché un Ternandez stasera avrebbe fatto comodissimo Perché Florenzi ha fatto parecchio in fase difensiva ma in fase offensiva si è praticamente non pervenuto Se no tre cross, regalate la raccatta a palle della serie, ti regalo il pallone e portatelo a casa Se vuoi ti faccio pure l'autografo Però il problema è che è uscito Leao ragazzi, ripeto il Milan è offensivamente sparito Okafor ha toccato tre palloni, Musa ha toccato tre palloni di cui uno non assist per Pulisic per gli unici due palloni che ha toccato in serata Se Musa avesse fatto l'assist un passo prima, Pulisic sarebbe andato in porta e avrebbe molto probabilmente fatto il gol del 3-1 3-1 poi che si avvicina sul finale, tiro stile Ternandez allo scorso gol contro la Fiorentina Solo che Ternandez spaccò la porta in un gol purtroppo bello ma inutile E invece trova un Terracciano con una parata abbastanza easy Abbiamo lasciato giocare la Fiorentina che comunque sappiamo avere un allenatore che io ammiro Io voglio andare un po' contro ciò che si è soliti dire Perché un allenatore non va sempre analizzato dalla parte dei numeri Ma va analizzato dalla parte del campo Italiano ragazzi da quando era lo Spezia uno degli allenatori che mi piace di più veder giocare Insieme a Spalletti, insieme a Sarri Ogni tanto insieme anche a Juric, a dire la verità Lasciamo stare gente come Allegri, quella lasciamo perdere Quindi ragazzi Dove volevo arrivare con questo? Volevo arrivare a dire che La partita è stata buona Si poteva fare meglio Perché l'avversario va valutato Non tanto per quanto è difficile il campo su cui giochi Ma quanto effettivamente bene o male gioca l'avversario Perché questo è il punto focale del discorso L'avversario oggi ha giocato bene Ma se avesse giocato leggermente meglio Non so se sarebbe finita così Invece quello che devi fare è Quello che vorrei che il Milan facesse È anniettare ogni possibilità all'avversario Di potersi dimostrare quello che è Non è facile perché non è facile Però È il salto di qualità che serve al Milan E che io dico già da Non dall'anno scorso Forse anche prima Che con questo allenatore Io vedo difficile Perché ragazzi Obiettivamente con questo 2024 Milan non sta giocando male Cioè Male male Quali partite ha giocato? Udine ha giocato male Ha vinto ma ha giocato male Ha giocato male a Monza Ha giocato male a René Però del resto io non Non posso dire che abbia giocato male Alcune partite Vabbè con l'Empoli si poteva giocare meglio Però le partite giocate Male sono molte di più Nella prima parte di stagione rispetto alla seconda Il problema è che È facile giocare bene Quando ormai tutto è andato Quando ormai della Coppa Italia si è fuori Ah abbiamo giocato male contro l'Atalanta In Coppa Italia È facile Giocare bene Quando ormai è campionato Ciao Ma già da tanto Coppa Italia Sei uscito con l'Atalanta In una partita in cui hai fatto un tiro in porta Europa League È la competizione più difficile da vincere Sei quarti di finale Tutto meritato Però c'è veramente O punti su quella O La vedo dura La vedo molto dura Quindi Diminuisco l'impegno Nella seconda parte di stagione È normale avere più giocatori a disposizione Più scelta Più tutto quanto E quindi Se hai più rotazioni Se Capisci la squadra come ti gira Sai Chi merita più minuti E chi no È ovvio che poi ti risulta un pochino più facile Fare i conti con la tua squadra Detto questo ragazzi Ci vediamo domani mattina Con la live reaction Di appunto Fiorentina Milan Non dimenticatevi Di lasciare un like Iscrivervi al canale Come vi ho già detto All'inizio del video Noi ci vediamo domani ragazzi Statemi bene E poi Testa a sabato Per la partita in casa con il Lecce E poi